Quello di cui vi voglio parlare oggi è un tuttofare, quello che utilizzo io per tutti gli eventi, matrimoni, documentari o qualsiasi tipo di lavoro in generale dove ho bisogno appunto di una lente che mi permette di coprire tutto il range possibile, più range possibile avere la possibilità di fare qualsiasi tipo di ripresa in ogni situazione e stiamo parlando di quello che secondo me è il miglior tuttofare per casa Fuji ma probabilmente lo è anche tra i migliori se non il migliore rispetto a quegli altri paragonabili a lui che ci sono di altri brand ma oggi parliamo proprio di lui che è il 1655 f2.8 costante di casa Fuji, sigla Questa lente è una lente professionale, infatti è della serie XF, lo riconoscete dal bollino rosso che ricorda un po' il rosso della serie L di Canon Esattamente come in quel caso qui si parla di una lente studiata per i professionisti Non è di primo pelo perché è uscita nel 2015 ma è una lente che ancora oggi risulta essere il tuttofare per antonomasia per chi utilizza a livello professionale le fotocamere di casa Fuji Non è la lente perfetta per tutti perché non è stabilizzata però come hanno dichiarato in casa Fuji hanno preferito dare più spazio al gruppo ottico preferendo eliminare la stabilizzazione ottica Stabilizzazione che comunque nelle macchine moderne è presente XS10 come quella che mi sta riprendendo in questo momento XT4 piuttosto che un XH2S o anche un XH1 Insomma sono tutte macchine che hanno la loro stabilizzazione interna per cui se lo volete acquistare per video state tranquilli Quindi con una macchina adatta al video tipo XH1, S10, XT4, XH2S avete sicuramente una grossa capacità di avere immagini stabilizzate perfettamente e senza nessun tipo di problema Quindi la stabilizzazione vi dico già che non c'è all'interno della lente ma non è un problema insormontabile Veniamo alla costruzione, la costruzione è fatta veramente bene, ha questo gruppo ottico che si muove e viene diciamo in avanti Quindi nel momento in cui lo usiamo su uno stabilizzatore potrebbe essere un poco un problema Però in realtà il peso rimane principalmente nella parte di dietro per cui con un buon stabilizzatore il motore dovrebbe essere in grado di compensare abbastanza bene Ovviamente sarebbe stato meglio avere tutto interno ma avremmo avuto una lente che vista la costruzione ottica sarebbe stata veramente troppo grande poi Anche perché non è piccolissima Vi faccio vedere, questo è un iPhone, ok? Come dimensioni La dimensione è simile a quella di un iPhone ma su un corpo macchina tipo l'XS10 risulta essere abbastanza grosso Sbilanciando un po' la macchina in verità Però ribadisco che la costruzione è fatta veramente bene, tropicalizzato, water sealing, water test sealing Quindi può essere usato in tutte le condizioni, vi posso garantire che è stato usato questo in tutte le condizioni senza mai nessun tipo di problemi Esce col paraluce che io ho eliminato subito perché è veramente orrendo Ma non lo uso in realtà anche perché preferisco ogni tanto mi piace giocare con i flare E dà veramente una resa incredibile sia in termini di colori che restituisce sia in termini di nitidezza Lo state vedendo, già a f2.8 la nitidezza sui bordi e sugli angoli è veramente molto alta Ovviamente aumenta e migliora chiudendo il diaframma ma a f2.8 è nitido da fare spavento E questa è la prima grande peculiarità di questa lente che risulta essere il tuttofare ideale per chiunque voglia fare cose a livello professionale Abbiamo un diaframma a 9 lamelle con 17 elementi suddivisi in 12 gruppi Quindi veramente tanta tanta roba, la distanza di messa a fuoco minima è di 30 cm Che non lo rende proprio adattissimo se dobbiamo fare un close up, close up, close up Ma ovviamente lo possiamo utilizzare bene su tutto dal particolare Per esempio nel caso di un wedding di un anello a un primo piano senza stare troppo attaccati al soggetto Insomma ha una grande 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 flessibilità E poi è f2.8 costante Questo non ce lo dobbiamo assolutamente dimenticare Noi abbiamo tutto il range che va da 16 a 55 Quindi un equivalente 24-70 circa sul full frame Sempre con l'apertura fissa f2.8 Ovviamente la possiamo cambiare in corso d'opera Ma avere la stessa apertura ci garantisce di avere sempre la stessa qualità Lo stesso livello di luce nelle nostre immagini Siamo larghi o siamo stretti Il diametro è di 77 mm E questa è una cosa tutto sommato buona Perché avere un grosso diametro ci permette come sappiamo di prendere un filtro ND E di usare step up ring per utilizzare lo stesso su altre lenti che abbiamo Le aberrazioni cromatiche ovviamente ci sono Non sono un qualcosa che ti fa odiare la vita e il fatto di essere nato E' venuto al mondo e aver deciso di fare il fotografo o il videografo Ovviamente in foto ragazzi è una fesseria a togliere Al solito il video è un delirio E' praticamente considerato lo impossibile da togliere L'aberrazione cromatica Ma è veramente minimale Le immagini che state vedendo sono state fatte su un controluce Con un sole pieno da squagliare mentre scatti Infatti ci sono per forza di cose sugli angoli Sulle linee molto sottili Ma non si notano, non danno fastidio L'immagine risulta pulita Stragodibile a livello visivo Per cui veramente l'esperienza d'uso di questa lente è su un altro pianeta Se dobbiamo trovare una pecca la trovo nella vignettatura Fa un po' di vignettatura Tanto a 16 quanto a 55 mm lo state vedendo E' un qualcosa che si nota principalmente su una superficie con un colore chiaro e costante Ma probabilmente non credo che nessuno di voi vada a fotografare muri bianchi E quindi probabilmente tolto un po' di vignettatura presente anche magari in un ritratto Da tra 16 e 35 mm Se lo usiamo al massimo della sua focale a 55 mm La vignettatura un po' non si noterà più Però comunque non stiamo parlando di un livello di vignettatura tale da non farti utilizzare questa lente E' una vignettatura molto leggera Che c'è ed è giusto insomma dare anche pareri negativi su una lente Perché sennò sembra quasi che io sia di parte Io di parte fuci ma siamo pazzi La messa a fuoco non è ultrasonica Ma vi posso garantire che è affidabilissima su corpo in macchina Ovviamente dopo la messa a fuoco funziona bene Su corpo in macchina un po' vecchi potrebbe magari comunque esserci qualche difficoltà Ma qualche difficoltà tipo su una T1 Ma più legata alla macchina che alla lente stessa La lente si comporta in maniera davvero speciale E' velocissima nell'aggancio e la messa a fuoco Fa pochissimo hunting E' veramente una lente molto molto performante Sia in autofocus singolo sia in autofocus continuo Tant'è vero che io la utilizzo in autofocus continuo con la mia T4 con la S10 Anche durante per esempio le promesse dei matrimoni Perché mi fido ciecamente di questa combo Della combo di una di queste due macchine con questo obiettivo Per cui non ho nessun tipo di problema Non ho mai avuto problemi in diverse centinaia di matrimoni Che ho fatto negli ultimi 2-3 anni Per cui chapeau tanto di cappello In conclusione a chi consiglio l'acquisto di questa lente Visto che non è l'unico tuttofare che c'è in casa Fuji C'è il 1680, c'è il 1545, il 1855 Che è un'altra bellissima lente Ma stiamo parlando di una lente serie professionale Quindi è una lente che tra l'altro non è neanche economicissima Costa un migliaio d'euro La trovate linkata qui sotto in descrizione È una lente comunque che fa veramente la differenza Rispetto a tutti gli altri Tuttofare di casa Fuji Questa è proprio su un altro pianeta Gli altri neanche la vedono E questo perché è costruita e concepita per i professionisti Infatti è una lente pesante 655 grammi Che sbilancia la camera se non la si accrocchia come si deve O comunque fatta per chi è abituato a stare molto tempo con la fotocamera in mano È una lente estremamente nitida, precisa, con un autofocus pazzesco Una pulizia dell'immagine incredibile Un bokeh pazzesco f2.8 E quindi è una lente fatta per chi la deve utilizzare In condizioni anche un pochettino critiche Che ne so, in mezzo a una tempesta Durante un matrimonio Perché ragazzi durante un matrimonio Gli obiettivi e gli sensori si sporcono che è una meraviglia Perché siamo sempre distratti, presi da mille cose Ci sono polveri, ci sono pulviscoli in generale all'interno delle case Per cui apri chiudi, apri chiudi Serve una lente tropicalizzata Una lente water and dust sealing Una fotocamera magari tropicalizzata pure non farebbe male E quindi è adatta ai professionisti che devono fare servizi È adatta a chi fa il portraiture A chi fa per esempio landscape A chi se ne va in giro A chi fa fotografie documentarie o appunto video documentaristici Per cui è una lente tuttofare per i professionisti Sicuramente se volete investire anche solo a livello amatoriale Perché avete la passione Volete investire per fare diciamo un salto di qualità Con i vostri video e con le vostre foto Questo è l'obiettivo che fa per voi Lo trovate linkato in descrizione Ovviamente non è l'unico kit a tuttofare Se volete spendere poco per esempio per fare video su YouTube Volete un kit per fare vlog Magari con le XS10 vi consiglio più un 15-45 pancake Che è più leggero e più adatto Questo è veramente difficile stare ore e ore a vloggare con sto cosone qua Con sto tambuto come si dice in dialetto nelle mani Però ovviamente la qualità di quello non è neanche minimamente paragonabile a quello Un'ottima lente kit che è adatto se dovete fare contenuti multimediali E se dovete lavorare con tutel e fare prodotti di alto livello professionale Il 16-55 f2.8 costante di Fuji è la lente che fa al caso vostro Bene questa era la mia overview generale di questa lente Ormai è un po' vecchiotta ma era giusto portarla visto che ho portato anche la continuazione del kit Il 50-140 Ragazzi spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto Se così è e ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale Attivare la campanella, dirlo ad amici e parenti da tutto Il globo del raco, insomma sempre le solite cose Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram Mi cercate Maurizio Bionese Filmmaker E che alla fine di questo video vi lascio due playlist importantissime Uno dedicata all'universo Fuji e l'altro dedicata al mondo del filmmaking Si chiama appunto Pillole di filmmaking E' una playlist che come ormai semplicemente un po' sapete Faccio insieme al buon Lucas Comparin Nella quale cerchiamo di farvi innamorare di questo mestiere del content creator Dandovi consigli, idee, chicche, piuttosto che spunti di riflessione Sul mondo della creazione di contenuti Diciamo in italiano, la content creation Ragazzi fa molto caldo E niente vi voglio molto bene Avete passato una bella estate La state passando una bella estate Spero fatemelo sapere nei commenti Io intanto vado a approfittare di questo momento di pausa per farmi un caffè E poi si torna al lavoro Ciao cipollini Ciao cipollini